Ti ho portato pane e vino. Non so se ti piacerà, ma i frati dicono che fa bene. Se tu scendessi du, potresti venire a mangiarlo qui. Non so, non so, non so, non so. Non ti faccio paura. No. Sai allora chi sono? Si, sei Dio. Tu sei un bambino buono. E io ti benedico. I frati dicono che sono cattivo. E Manuel che dici? Come? Tu lo conosci? E' contento? Si. Parliamo di te. Da oggi in poi tu ti chiamerai Marcellino Pane e Vino. Marcellino Pane e Vino? Mi piace. Ti faceva male? Molto.